Sarà una domenica di grande festa presso la parrocchia Santa Teresa del Bambino Gesù, quando alle ore 19 Don Fernando Lupo celebrerà la solenne liturgia eucaristica di ringraziamento al Signore per il suo cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Tutta la comunità è invitata a festeggiare con lui un traguardo che non si raggiunge tutti i giorni. Don Fernando Lupo l'augurio di tutta battipaglia. Grazie alla provvidenza ai miei genitori e agli amici e ai fedeli della parrocchia, vogliamo ringraziare il Signore con una solenne liturgia eucaristica domenica a sera, con tutti i fedeli della parrocchia, agli amici che ci vogliono orare. Ringraziare il Signore e pregare il Signore che mandi molti a santo, operai, sacerdote, nella sua vigna che è la Chiesa e il popolo santo di Dio. Questo è importante. Se potesse ritornare indietro, sceglierebbe ancora una volta il sacerdozio? Sicuramente sì, perché l'esperienza del sacerdote in cura d'anima, perché per me il sacerdote è colui che è in cura d'anima, non è un impiegato e neppure un professore o un maestro. Maestro di vita dovremmo essere un po' tutti noi adulti. Rifarei in pieno l'esperienza entusiasmante di essere sacerdote a servizio del Regno di Dio, perché si viene a contatto con le problematiche, con la realtà concreta, la vita, il pensiero, la mente, il cuore, la coscienza delle persone, il fuori interno e il fuori esterno, la realtà delle famiglie a disagio, la gioia delle famiglie tante, la stragrande maggioranza che stanno benissimo, e le pene delle persone che si rivolgono a noi sacerdoti, parloci in barrocchio per essere aiutate in tutte le forme e a tutte le ore.